Lui è pronto ad andare incontro al proprio destino. Lei invece non ci sta proprio ad accettare quello che ha deciso il destino. Non ci sta a parlare! Non ci sta a parlare! Che ha fatto sì che l'altro incontrasse l'altra, che i destini a cui dar conto ne ha davvero parecchi. Tutto davanti a un ciutofolo. Il tempo di chiedersi. Grazie per la visione! Grazie a tutti!